Sono in uno dei miei meravigliosi boschi, la neve è andata via da poco, si sente il girgelo, sentite il rumore di questo torrente che precipitava, acqua di girgelo, velocissimamente l'ultima butade del sessuomane, ha creato dei convitti per manciulle deviati, ha intenzione di creare, della specie di buona sopravvivenza e buona provvidenza, a proposito del caso Rubi, ormai mondiale, ha detto e dichiarato, è vero, io ho dato dei soldi a Rubi, ma per un motivo semplice, per impedirgli di prostituirsi, di darsi alla prostituzione, aveva bisogno, in questo modo io la foraggio a che lei non avendone più bisogno non si dedichi alla prostituzione con tutti, qualcuno malignamente ha anche aggiunto, basta, sufficiente con uno solo, arrivederci?